A volte anche un punto può andare bene per cominciare la risalita. Lo auspica la Dolomiti Bellunesi che allo stadio Baracca di Mestre sfiora la vittoria, anche se poi deve accontentarsi di un 1-1 che meglio rispecchia, quanto visto sul terreno di gioco. Un verdetto grazie al quale Mestre e Dolomiti Bellunesi salgono assieme a quota 4 punti, restando ultime, ma in una classifica molto corta. Nonostante sia solo la sesta giornata c'è già una sensazione di scontro salvezza in casa dei Mestrini e il tecnico dolomitico Zanin sceglie un 4-3-3 in realtà molto compatto e piuttosto rivoluzionario negli uomini, considerata la panchina iniziale di titolarissimi quali Alari, Casella e Sviderkoski. Ad esempio è inedita la coppia centrale formata da Conti e Sommacal, un modo per cercare di ovviare all'emoragia di reti subite e in effetti a lungo l'obiettivo sembra andare in porto. Nel primo tempo la Dolomiti c'è e passa al 37esimo quando Corbanese approfitta di una dormita della difesa mestrina e deposita in rete il vantaggio. Nell'occasione il Mestre reclama per un contatto in realtà parsoveniale di Thomas Cossalter su un doi. Nella ripresa però la Dolomiti abbassa davvero troppo il baricentro e al massimo riparte in qualche circostanza soprattutto nel momento in cui entra De Pauli. Ci sarebbe da rivedere al 68esimo un rigore non assegnato allo stesso esterno offensivo. Ad ogni modo il Mestre attacca a spromba tutto al 79esimo e Nicoloso in girata a siglare l'1-1 superando Sakon. A fine gara sono queste le parole del tecnico Diego Zanin. Sicuramente è una partita che mi aspettava. La prima settimana che lavoro e le cose che mi hanno lavorato le ho viste fatte bene. Ho visto una squadra compatta, ho rischiato poco, molto meglio sicuramente il primo tempo. Sicuramente c'è da migliorare le diverse cose. Però ho visto una squadra di carattere, concreta e che non ha rischiato più di tanto. La Dolomiti Bellunesi è attesa ora da due partite casalinghe. Domenica Lozzugni Tauro di Feltre riceverà la visita del Campo d'Arsego. Mentre il 23 ottobre dovrebbe esserci il debutto stagionale al Polisportivo di Belluno contro il sorprendente Este.